Di niente, cos'è? Sarà qua, se mi serve aiuto per apparecchiare il tuo. Quando tu mi hai avuto, ci devi andare a fare il tuo. Ti dobbiamo assolutare un travestito. Uah! E' il mondo! Oh, dammi, dottore! E' il mondo! Siamo rimasti in colonna! Ci siamo abbracciati sulla tenta per mandarti dei segnali. E' un'eccellente scalatore. Ma non saremo mai usciti dalla stanza di doni. Senza il remappaggio e il suo strappianti chiamo di utilizzare l'olio idoso e la maniglia della mozza. E sei davvero un grande, sei un grande. No, tu lo sei. 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 Mi può piacere, andiate d'accordo. Ma dovremmo portarvi il primo e il primo e il primo e il primo.